Il padrino, dal film omonimo. I temi sono tratti dalla colonna sonora del film omonimo. Ma partiamo con una nostra interessante inchiesta. Un investigatore della Mobile di Roma, allontanato dal servizio, ora collabora con il programma di formazione della polizia americana. Si tratta di uno degli agenti che parteciparono all'operazione antimafia che interessò il litorale nel 2004, l'operazione Ancomazio, la stessa che lo avrebbe però messo nei guai. Ascoltiamo l'intervista di Mara Zarelli. Congenati in Italia per presente patologie e contratte in servizio, questo poliziotto rannestero collabora nel programma di formazione della polizia. Un'intervista davvero shock, quella che avete appena visto, che sicuramente getta una luce nuova su una storia che tutti credevamo conclusa e dai contorni definiti. Grazie. Grazie.